questa corbetta qua è brutta oggi si oggi in discesa quelli oggi non mi piacciono ma che brutta la corbetta aspetta fai scendere e sennò vai via dritto arrivi uguale perchè bisogna vedere qua se vai fuori bene che la pesi adesso vediamo dove va lui già il vito starà già smatonnando non gli piace col petto qua dai salta su che miseria oh vedi che si incatta adesso madonna allora ora oh la 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 oh oh calma eh oh piano eh perché tu corri dai che lui va sei matto dai poi sei già andato oh 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 ma 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 e adesso oh 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 Grazie. Di là Vito, di là di Guaruzzi, bravo Vito. Allora, giù, dobbiamo scendere, giù, scendi giù, giù, vedi, scendi, 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 dove è andato, deve andare giù, va bene, è uguale, arriva su e dopo scendi, è uguale.